Alessandra Moroso in vacanza in Trentino con amiche, ma lei sulla neve non si trova proprio a suo agio. Il nostro corso gratuito è un'ottima, ma lei sulla neve non si trova proprio a suo agio. Cosa è successo? Che passò? Sei delle nevi, sei delle nevi, no? Mi penso proprio a mio agio! Vai buttati! Dai ti prego! C'è chi preferisce la neve e chi il mare. Alessandra preferisce il mare.